A me è piaciuta molto la piscina dove siamo andati a nuotare tutti i giorni. Principalmente io ho fatto quattro differenti workshop e uno può scegliere sul sito web. Video filming, 3D game design e digital photography. Mi sono piaciuti molto tutti e tre, soprattutto digital photography dove mi sono potuto esprimere al massimo. Anche il video filming mi è piaciuto molto. È stato molto divertente fare un film insieme agli altri. Vi consiglio di venire all'e-camp perché è un'esperienza molto bella e il sito è www.e-camp4u.com.it Ci vediamo l'anno prossimo. Questo è l'e-camp, un campeggio estivo in Israele di high tech dove bambini e ragazzi di tutte le età e di tutte le nazioni, compresa l'Italia, possono venire e avere una bellissima estate. Una delle cose più belle dell'e-camp è stato venire in Israele perché per tutti noi ebrei Israele è un posto speciale ed è una terra comunque bellissima, piena di sole ed è sempre estate qui. Stare all'e-camp quest'anno come ogni anno è stato un sogno perché abbiamo avuto dei falò bellissimi, abbiamo avuto delle serate, abbiamo avuto delle visite a vari posti tali come Google o altre aziende come Micron che producono microchip per la Intel, che è un plug ma è per staccare un po' la spina, per rilassarsi, per non stare tutto il giorno davanti al computer. Sto in leadership e in partnership perché ho potuto liberare la mia fantasia e quindi lavorare su una mia idea, una cosa a cui io mi ero molto appassionato e quindi alla fine c'è stata una specie di competizione e presentazione dove sono stati assegnati dei posti e io sono arrivato terzo con mia grande felicità. Hai sempre tutti i counselor intorno e quindi puoi parlare con loro dei tuoi progetti, dei tuoi problemi e sono sempre disponibile ad aiutarti. Quando io ero qui il mio inglese è molto migliorato anche perché ho capito l'importanza di imparare le lingue ma non solo l'inglese anche l'ebraico e infatti quest'anno mi sono impegnato molto di più e penso che il mio ebraico e soprattutto il mio inglese siano molto migliorati. Infatti adesso parlo molto fluentemente con tutti i miei amici sia israeliani che americani. Raccomando a tutti di venire la prossima estate AlliCamp, benvenute e ci vediamo alla prossima estate. Spero di tornare anche l'anno prossimo.